Ciao, torno a parlare di Libri Game e precisamente vi parlo del secondo volume della collana Nuovi Mondi di Aristea e precisamente vi parlerò di Persephone X, libro di Antonio Costantini, 381 paragrafi, edito appunto da Aristea. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Prendi un libro, suogli le pagine, ma non leggerle istruzioni, tanto qui c'è Teo con le sue recensioni. Recensioni Minute, Recensioni Minute. In questo libro saremo il comandante William Duke Hunter, un personaggio davvero grosso, nervoruto e tostissimo. Partiremo con 30 punti salute e 6 punti abilità, dopodiché distribuiremo 5 punti fra queste 3 specialità. Questi valori serviranno per superare delle prove, quando ci sarà una prova ad esempio di mira, dovremo semplicemente lanciare due tagli da 6 e sommare la difficoltà della prova. Se il valore è inferiore alla somma di abilità più mira, avremo superato la nostra prova. I combattimenti si risolvono nello stesso modo. Se superiamo la prova di mischio o mira, secondo il tipo di combattimento, faremo danno dato dalla nostra arma all'avversario, oppure sarà l'arma dell'avversario a infliggere danni a noi e abbassare la nostra salute. Quando la salute però raggiunge lo zero, noi dovremo semplicemente eliminare uno di questi teschietti di ucciso in azione e ripristinare i nostri punti salute a 30. Torneremo esattamente in vita. Il perché lo scoprirete all'interno del libro. Avremo poi un indicatore di livello di allerta, vi spiegherà il libro quando utilizzarlo, e anche i numeri che dovremo segnare all'interno degli obiettivi che potremo conquistare nel corso della lettura. Tutti insieme vi daranno un finale molto diverso. Infine avremo dei codici che potremo sbloccare nel corso dell'avventura e che ci permetteranno di arrivare in alcuni bivi diversi a seconda dell'avventura. Nella prima parte dell'avventura poi metteremo insieme l'equipaggio storico che ci ha sempre accompagnato. Ognuna di queste persone quindi avrà delle abilità speciali, ci darà una mano, avrà i propri oggetti e quindi in alcuni casi addirittura dovremo portarci dietro uno oppure tutti e tre i membri del team. Questa mappettina e la parte del codex relativa alla nostra astronave uguaglianza, vabbè non sarà poi così, ve la lascio spiegare dal libro. A un certo punto vi spiegherà come pilotare la nave e come affrontare dei combattimenti nello spazio. Il regolamento di quelli è abbastanza classici, diciamo un tiro di dado per superare delle prove utilizzando i modificatori. Ma ci sono tante piccole aggiunte molto interessanti. A partire ad esempio dall'equipaggio. La presenza di questi membri dell'equipaggio, che potrebbe non essere completa, vi segnalo questa cosa, oppure qualcuno potrebbe perdersi per strada, è parte integrante dell'avventura stessa. Avrete bisogno di tutti i membri dell'equipaggio oppure subirete delle conseguenze, per meglio dire, l'avventura potrebbe risultare più difficile. Ognuno di essi ha delle vere e proprie abilità che vi serviranno, quindi non sentirete magari realmente la presenza della persona all'interno della narrazione, ecco da questo punto di vista dovete fare voi un po' lo sforzo di immaginarvela, ma scegliere una persona rispetto ad un'altra in alcune situazioni può fare decisamente la differenza. Nella seconda parte del libro, poi come avete visto, si cambierà proprio la prospettiva del libro e anche l'impronta. Sarete su un'astronave, quindi dovrete pilotarla, avrete bisogno anche in questo caso dell'equipaggio e distribuirlo come si deve sull'astronave a seconda di quello che sceglierete di fare e qua non combatterete più a mani nude, ma dovrete fare in modo di distruggere astronavi avversarie. Avete quindi capito che la trama si sviluppa su tre archi narrativi. Allora nel primo arco metterete insieme la vostra squadra. Siete degli eroi di guerra, avete messo fine a una guerra davvero lunga e difficile grazie alla vostra grande abilità in battaglia, ma anche a un piccolo aiuto extra. Allora nel corso della trama scoprirete degli indizi su questo aiuto extra che vi permette di tornare in battaglia anche se siete scesi a zero punti vita, ma per scoprirlo davvero dovete sbloccare un capitolo segreto, quindi c'è da leggere il libro e arrivare a una vera e propria conclusione diversa. Dopodiché avete risolto magari tutti i vostri problemi dei vari membri dell'equipaggio, perché ognuno ha delle cose risolte con voi o con qualcun altro, missioni secondarie da portare a termine. Se riuscite a recuperare l'equipaggio, ho detto che riusciate a recuperare tutti quanti, allora potrete partire nel secondo arco. Nel secondo arco appunto siete a bordo di un'astronave, siete partiti per la missione, siete contro una razza aliena, hanno tantissime navi, vogliono distruggere tutto quanto e quindi diciamo che la cosa si fa delicata. Dovete in qualche modo alzare il livello della narrazione. Se prima guardavate solamente il vostro capitano, quindi guardavate in prima persona, dovete guardare un po' più all'esterno. Siete su una nave, dovete gestire una sorta di combattimento, decidere se andare a testa bassa, lavorare in stealth. Insomma, prenderete decisioni diverse e anche il tipo di combattimento avrà delle ripercussioni molto differenti. Arriviamo quindi al terzo arco, dove si va alla conclusione della storia. Ovviamente qua non voglio dirvi di più. In questo caso avrete delle conclusioni molto diverse. Il libro è molto rigiocabile, perché a seconda delle vostre scelte che avete preso in passato, mettiamola così, o nel corso dell'avventura, nei capitoli precedenti, semplicemente avrete dei finali diversi. Saranno anche dei finali in cui sarete vittoriosi, ma capirete che c'è un qualcosa dietro. Potreste non essere soddisfatti del tutto del vostro finale. Ovviamente ci sono anche dei finali negativi e delle piccole morte improvvise qua e là che vi potranno capitare. All'interno del libro poi non ci sono dei veri e propri enigmi. Diciamo che ci sono però delle cose da sbloccare in funzione di quello che avete fatto e c'è un bel metodo per evitare che possiate barare. Nel senso che se avete sbloccato alcune delle parole chiave, esse vi daranno dei numeri che dovrete sommare al paragrafo in cui le vorrete usare. Banalmente, se avete trovato una certa chiave e volete usarla in un capitolo, quella chiave avrà il numero 12. Bene, sommate 12 al capitolo e andate a vedere come avete aperto la porta. Non avete la chiave, semplicemente non potete dire ah ah, sì ce l'ho e andate al paragrafo successivo, perché nessuno ve lo dirà. Cosa poi interessante sono i vari riferimenti che troverete all'interno della narrazione. Non è fondamentale coglierli, però è tutto frutto della cultura pop. Diciamo che ho trovato riferimenti ai film di Bud Spencer, ho trovato dei riferimenti al dottore. Insomma, se riuscite a cogliere non voglio dirvi di più, ma ce ne sono disseminati in tutto il libro. Approfitto quindi per dirvi che anche il tono della narrazione cambierà. All'inizio siete proprio dei maci. C'è una narrazione in cui c'è proprio il tipo super duro, che non ha problemi a menare le mani. Insomma, anche le frasi che dirà saranno proprio da tabbozzo di periferia, mettiamola così. Quindi il tipico duro che vi immaginate è interpretato da The Rock nei vari film. Dopodiché avremo una narrazione un po' più concitata, dove c'è della tensione, ma in qualche modo capirete che è un pericolo grande, imminente, quindi finiscono un po' le battute, un po' questo tipo di riferimenti. E poi c'è una terza parte in cui è molto più riflessiva e introspettiva. Quindi sì, tornerete a impersonare il vostro comandante, ma con una consapevolezza molto differente. Direi quindi che se vi piace questo genere fantascientifico con una buona dose d'azione e di adrenalina, potrebbe fare al caso vostro questo Persephone X. Come vi dicevo, ci sono delle scelte che possono ripercuotersi proprio sui finali della narrazione, quindi lo rende anche molto giocabile. Con questo ho finito, vi saluto con un ciao e alla prossima. Bene, prima di salutarci vi faccio vedere che potete anche conquistare questo attestato di promozione che potrete farvi anche firmare dall'autore se riuscite a compiere la missione in un certo modo, potete anche non riuscire a compiere la missione. Vi dico questa cosa, quindi tornate a casa con la coda fra le gambe e niente, non mi resta che chiedervi di lasciarmi i vostri pollici su, giù e i commenti qua sotto. Risponderò molto volentieri. Non dimenticate che potete iscrivervi a Telegram e Instagram per rimanere aggiornati su tutto, ma soprattutto che potete anche sostenere il progetto Recensioni Minute per farlo crescere dal punto di vista hardware, software e di contenuti utilizzando i tre metodi che trovate qua in descrizione. Ciao!